Musica E questo giovanotto? E questo giovanotto Appunto Si chiama Salvatore e ha una strana storia da raccontare Vieni Salvatore, dici Lei sta cercando una ragazza straniera, vero? Certo, la conosci? No, ma sento la sua presenza Capisco, e allora? Ho letto l'articolo che parlava della ragazza bruciata viva E ho incominciato a sentirla Cosa vuol dire? Ecco De Luca, Salvatore è un sensitivo Sensitivo? Sensitivo? Sensitivo La ragazza che state cercando È stata portata via da Livorno In una città col mare Vicino a quella dove è stata trovata la ragazza bruciata? Già Io sento attraverso ciò che conosco delle persone Riesco a capire dove stanno andando Dove sono Questo non succede sempre Solo in alcuni casi Ed in questo è successo mentre leggevo l'articolo Va bene, Salvatore Ci hai dato delle notizie molto interessanti Se avremmo bisogno di te ti faremo chiamare Intanto lasci data rispettrice Eh? D'accordo? Andiamo Buongiorno 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 Marti Buongiorno 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 Grazie a tutti.